Ciao a tutti cari amici e cari amiche, oggi parleremo del concilio di Efeso del 431, che è il terzo concilio ecumenico della Chiesa. Dunque, il concilio di Efeso dell'anno 431 rifiuta la dottrina nestoriana, secondo cui in Cristo ci sarebbero due soggetti, uniti moralmente, il Verbo e l'Uomo Gesù. Afferma che il Verbo non ha unito a sé la persona di un uomo, ma si è fatto uomo nella sua umanità, è nato da Maria, ha sofferto, è risorto, perciò una sola persona, un solo e medesimo figlio di Dio è vero Dio, è vero uomo, e Maria è vera madre di Dio. Se stesso, ipostaticamente, una carne animata da un'anima razionale, si fece uomo. L'umanità di Cristo non ha altro soggetto che la persona divina del figlio di Dio, che l'ha assunta e fatta sua al momento del suo concepimento. Per questo, il concilio di Efeso ha proclamato nel 431 che Maria in tutta verità è divenuta madre di Dio per il concepimento umano del figlio di Dio nel suo seno. Madre di Dio, non certo perché la natura del Verbo o la sua divinità avesse avuto origine dalla Santa Vergine, ma poi che nacque da lei il santo corpo dotato di anima razionale a cui il Verbo è unito sostanzialmente. Infatti si dice che il Verbo è nato secondo la carne. Cari amici e care amiche, per questo terzo concilio ecumenico della Chiesa Cristiana Cattolica delle Origini è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!